Un festino a base di droga finito in tragedia. Questo sarebbe emerso dalla ricostruzione compiuta dai carabinieri nell'appartamento di Cavino di San Giorgio delle Pertiche, dove una settimana fa ha trovato la morte una giovane donna di 26 anni originaria di Pordenone. In queste ore le prime due denunce per omissione di soccorso a carico di due quarantenni, uno dei quali proprietario dell'appartamento teatro della tragedia, ma le indagini restano aperte. All'interno oltre ai due alla sfortunata giovane ci sarebbero state anche altre persone. Forse una telefonata più tempestiva, al 118, avrebbe potuto salvare la vita alla ragazza.